Sicuramente i cambiamenti climatici hanno un impatto economico su tutte le aziende, su tutto il territorio, alcune di più e altre di meno. Sicuramente la Conorio ICO subisce un impatto importante e solo quest'anno abbiamo speso per rifornire i serbatoi circa un milione di euro che sono stati quindi di costi aggiuntivi rispetto all'anno scorso. Ciò detto stiamo rivedendo completamente il nostro piano di investimenti fin da qui al 26 proprio per cercare di mitigare il più possibile la diminuzione di precipitazioni. In che direzione va questa revisione del piano di investimenti? Sicuramente andiamo verso una diminuzione di quelle che sono le sorgenti di superficie o comunque una diminuzione della loro portata. Quindi dobbiamo aumentare gli invasi perché l'acqua viene ma viene in un periodo precipita in maniera molto più ristretta rispetto a prima, in un arco temporale più ristretto e quindi dobbiamo avere degli invasi in grado di riuscire a raccoglierla quando c'è. E poi dato che nella zona nord della provincia è difficoltoso progettare i nuovi pozzi, i pescaggi a lago saranno sicuramente nel prossimo futuro una soluzione per dare una risposta tangibile. Questo aumento dei costi ha avuto un'influenza nella bolletta delle famiglie? Oggi no, noi abbiamo da Rera una suddivisione, una ripartizione dei costi che la tariffazione viene fatta in maniera biannuale e quindi l'eventuale recupero dei costi verrebbe fatto tra due anni. In questo caso però no perché tutti i nostri costi ci sono stati rimborsati con un decreto della presidenza del Consiglio all'interno dell'emergenza idrica e quindi rimborsati dalla protezione civile e quindi non andranno ad aumentare la bolletta.